Siamo fortemente delusi perché avevamo chiesto sin dalla Commissione del 29 di settembre quando ci fu presentato il piano Covid di avere un cruscotto di monitoraggio per poter controllare, verificare e dare anche un contributo rispetto allo stato attuativo di quello che era stato programmato. Tutto invece è saltato. D'altra parte le stesse dichiarazioni del Presidente della Regione e dell'assessore Veri sono contraddittorie tra di loro e allo stesso tempo anche con loro stessi da un giorno all'altro. Infatti un giorno dicono che è tutto sotto controllo, il giorno dopo sostengono invece che gli ospedali sono saturi, la mattina si dice rimaniamo in zona gialla, il Direttore della Sanità dichiara così, il pomeriggio passiamo a zona arancione. E ci dà l'idea questa comunicazione così contraddittoria di quanto sia fuori controllo da parte della Regione quello che sta avvenendo. A nostro avviso è saltata soprattutto l'assistenza territoriale, la rete territoriale e i nostri presidi ospedalieri sono sotto forte pressione e i disagi per i cittadini innumerevoli insieme agli operatori stessi. Vogliamo dare un contributo però il Presidente Marsilio deve smetterla di adoperare il Covid per fare campagna elettorale nazionale e posizionarsi continuamente negli show televisivi e radiofonici sulla posizione politica di Fratelli d'Italia. Lui deve fare il Presidente degli abruzzesi e soprattutto per gli abruzzesi mettendo in campo una risposta adeguata all'emergenza sanitaria.